Ciao! Abbiamo appena comprato una bottiglia di Coca-Cola e queste mentos. Ora noi potremo mangiare le mentos, bere la Coca-Cola e vivere una lunga e spensionata vita felice. Ma non è quello che faremo. Noi oggi metteremo le mentos nella Coca-Cola. E sta a voi vedere cosa accadrà. Corri, signori, corri! Oddio! Dai, che idiota! Ora questa ce la possiamo bere! Buonissima! Chiude pure, mio ragazzo. Grazie al nostro primo risultato che abbiamo deciso di ritentare. Questa volta che io ritacco molto meno ci metterò un mentos qui. Pronto? Ma Betta? Fai saltino al rispetto. Beh, questa volta è andata meglio. È stata troppo prudente. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.